I grassi sono pericolosi per il cuore. Questo è uno dei luoghi comuni che più facilmente sopravvive nell'immaginario collettivo, anche se ormai ricerche e risultati clinici affermano esattamente il contrario e tutti i cardiologi che si aggiornano e partecipano ai congressi internazionali sanno bene che è un'affermazione falsa e che ha fatto tanti, tanti danni. Avere incolpato i grassi dell'insorgenza di infatti ed ictus ha creato fin dagli anni 70 un gravissimo ed esponenziale abuso di zuccheri e cibi raffinati, e cibi light, questi cibi superleggeri, che ha portato a una crescita esponenziale di obesità, diabete, malattie cardiologiche, invece di tenerle sotto controllo. È successo esattamente l'opposto. Togliere grassi sani dall'alimentazione, mettere all'indice per esempio tuorlo, burro, riempire i nostri frigoriferi di margarina o la dispensa di pasta e biscotti e zero grassi, ha fatto aumentare la nostra fame, ci ha costretto a mangiare tanto e appunto ha fatto peggiorare tutto il quadro delle cose. La scoperta incredibile che hanno fatto gli scienziati è che in realtà i grassi sani sono i migliori alleati del nostro cuore e della nostra circolazione. Se li consumi in modo quotidiano, favorisci la salute di cuore, ossa, cervello, ormoni e sistema immunitario. Inoltre è grazie alla loro presenza che riesce a diminuire il consumo di zuccheri e farine, il cui abuso, è lì l'abuso che riempie il tuo sangue di acidi grassi ossidati e di cattiva qualità che invecchia e intasa il tuo fegato e i tuoi vasi sanguigni. Quindi scopri i grassi sani, burro, olio di cocco, ghi, olio evo, avocado e consumali quotidianamente e questo sosterrà il tuo cuore e migliorerà la tua circolazione. Grazie a tutti!